È un video non previsto questo perché è arrivato lo scappascione dei mercati L-Crypto in close di questo ciclo mensile che ci stava facendo disperare. Lunedì vi avevo accennato la possibilità che avremmo avuto davanti dei giorni ancora complicati, Bitcoin aveva respirato un pochettino, ci aveva fatto anche ben sperare ragazzi perché ieri era arrivato a un peletto dal superare quello che secondo me poteva essere un livello di buy long molto importante, i 60.000 e qualcosa, ho fatto lo short per avvisare tutti quanti, ovviamente non è riuscito a superarlo e immediatamente ha fatto reverse. Reverse, bucato i minimi, nuovo ribasso pesante, meno 8% nella giornata di oggi ma sono tutte le criptovalute in questa condizione. Facciamo un video spot velocissimo per darvi quelli che sono gli aggiornamenti del momento, un video urgente per chiarire un po' quella che è la situazione e poi chiaramente ragazzi lunedì faremo tutto il recap soprattutto con la close della settimana, va bene? Allora facciamo subito i dovuti scongiuri perché il mercato deve mantenersi sopra alcuni livelli che vi faccio vedere direttamente oggi. Allora siamo in close ciclo mensile, il ciclo mensile è ribassista per quanto riguarda Bitcoin dal famoso crash di quel minimo di cui abbiamo parlato anche in qualche video fa quando siamo andati in stop in alcune operazioni eccetera, quando l'attesa era per andare a testare in uno dei massimi invece Bitcoin ha reversato proprio qui lunedì e martedì in queste due candelone bruttissime, ha invertito il trend in breve quindi da lì non si scampa ragazzi o inverte nuovamente il trend e si riporta in trend in breve rialzista, vi faccio vedere come deve fare da un punto di vista classico deve andare a bucare questi precedenti massimi che sono avvenuti qui intorno ai 60.000 quindi deve fare un reverse e poi bucare questi massimi e rimettersi in questo tipo di trend. Se non fa questo non c'è scampo, si continua con questa fase discendente. Ci sono dei livelli di supporto che sono importantissimi, il primo è già stato più o meno raggiunto intorno ai 53.000 dollari che è il livello di supporto più vicino, poi l'altro è molto più in basso ragazzi non sarebbe bello. La verità è che da un punto di vista ciclico non è neanche finito il 30 giorni perché manca un giorno ancora, mannaggia ragazzi. Allora, mese di novembre, bruttissimo, lo analizzeremo comunque lunedì perché siamo alla fine del mese e secondo me non volge benissimo neanche per dicembre se questa è la situazione perché anche sul mese di novembre Bitcoin ha creato una candela, quindi un pattern purtroppo molto delicato quindi o recuperiamo nei prossimi giorni oppure sudiamo freddo con Babbo Natale insieme alle renne. Vabbè, poi questo lo vedremo comunque al momento. Questo è il livello minimo di supporto ragazzi. Siamo in close del mensile. Come vedete il ciclo mensile è iniziato qui, è già al ribasso ma questo l'avevamo già visto perché aveva bucato qui. Ha fatto una struttura che sembra una struttura ternaria vi faccio vedere la classica navicella Star Trek 1, 2 e 3, anzi a me piace di più Star Wars perché Star Trek, la verità, non l'ho visto e quindi io non me lo ricordo ragazzi. Allora, questa mi sembra un po' la navicella di Luke Skywalker. Va bene, allora, questo è il classico ciclo che sta facendo quindi tecnicamente ragazzi a momenti dovremmo andare a chiudere il ciclo mensile. Il problema è che come sempre non si sa dove perché potrebbe fare anche un altro 2-3 giorni di ribassi pesantissimi come questo qui anche in Academy. Oggi stessa abbiamo parlato, ho spiegato che dal punto di vista di struttura di volatilità il mercato Bitcoin in questo caso non ha neanche raggiunto una volatilità estrema nella mese di novembre anzi, se proprio devo dirla tutta, è la volatilità più bassa dal 2020, da un anno, da ottobre 2020 il che mi fa molto preoccupare perché potrebbe tranquillamente continuare a scendere anche fino alla fine del mese senza alcun problema, senza essere in situazioni di eccesso statistico. Lo so ragazzi, sembra strano dirvi queste cose, sembra un po' brutto perché nell'arco di due giorni avete visto come è capitolato, diciamo, tutto il trend e come quando un trend muta cambiano anche le condizioni. Quindi attualmente io sono ancora nell'idea che dobbiamo iniziare un nuovo ciclo mensile e che sarà quello poi la chiave per leggere l'eventuale possibilità di rompere questi famosi massimi storici eccetera però sicuramente il mercato non ce la dà facile, non ce la racconta giusta. C'è anche da dire che c'era un'anomalia sui mercati cripto non Bitcoin, quindi Ethereum per esempio e le altre cripto che stavano sparando a zero. Questa anomalia è stata ripescata, quindi rimessa dentro il sacco proprio nella giornata di oggi. Vi faccio vedere l'anomalia e secondo me potrebbe essere una notizia tutto sommato positiva, non negativa. Cioè l'anomalia era quella che ETH aveva chiuso qui un ciclo che non era neanche un ciclo mensile ribassista e sembrava stesse tornando a risalire. Questa cosa era anomala perché c'era in effetti un'anomalia molto strana. Qui il ciclo era partito da 3.891 e poi aveva chiuso con soli 22 giorni e poi sembrava stesse cercando di salire nuovamente. Invece niente di fatto, vedete questo minimo oggi ha bucato però ancora una volta mi duele dirlo 3.891. Questo ciclo è ancora rialzista, 3.9 è qualcosa, certo è rialzista diciamo in trading range però anche questa raffigurazione un po' mina la questione se abbiamo fatto il minimo o meno. potrebbe essere anche necessario un'ulteriore discesa anche poco poco piccolissima sotto questi minimi proprio per disegnare anche su Ethereum un ciclo mensile fatto così ragazzi ribassista. Allora questa è la questione, possiamo aver fatto un punto più minimo? Tutto sommato basta, siamo a 29 giorni, 30 giorni però ragazzi solitamente ETH va un po' più in là con i giorni e quindi potremmo arrivare tranquillamente a fine mese di novembre. Una candela di novembre che non sarebbe per niente bella. Tra le altre cose vi faccio vedere anche poi il grafico della Total Market Cap che ha sentito proprio in maniera estremamente rilevante la resistenza psicologica ma anche no a 3 trillion ragazzi perché ha fatto un bel trend però bloccandosi qui a un certo punto ha invertito il trend proprio anche la Market Cap proprio nella giornata del 16 sapete che la Market Cap è fortemente dipendente da ETH e da Bitcoin per un 60-70% perciò è normale questo tipo di logica perché in sostanza sarebbero come se fossero Bitcoin ed ETH insieme più qualcosina ok? Quindi in sostanza quello che fa Bitcoin più o meno questo grafico ne risente però è anche molto rilevante il concetto che la Total Market Cap è scesa in questo momento sotto anche il livello di supporto principale cioè questo livello bianco che vedete 2.4 certo sta cercando di resistere ma il successivo è qui cioè intorno a 2.2 potrebbe tranquillamente arrivarci nell'ulteriore scivolone o anche perché no scendere a fare una leggera shadow un pochettino più in basso quindi la classica flash crash così boom e chiudere la struttura ciclica lo sono vi do buone notizie andiamo a vedere anche la questione legata magari a come stanno andando i mercati in generale è un praticamente è un tutto rosso ragazzi non se ne salva neanche una in questo momento a parte le stable coin sono tutte in rosso ragazzi vedete a 24h siamo nell'ordine di meno 10 meno 11 meno 10 meno 11 non se ne salva nemmeno una se non alcune cripto come terra che magari avevano corso poco nell'arco delle scorte settimane ma vedete anche le altre anche la top che è stata a CRO meno 12 sta recuperando tra l'altro perché aveva fatto un ribasso anche più importante ma è ovvio questa però è l'unica è una delle pochissime che ha un settimanale vedete assolutamente di rilievo con ancora un più 32 negli ultimi 7 giorni si scende ragazzi non si salvano nemmeno quelle della metaverso perché poi i mercati in queste condizioni vanno ad essere tutti correlati ricordatevi sempre questa questione quindi se volete una moneta non correlata al mercato quando si va in crash le uniche sono le stable coin allora siamo in fase concludendo questo video abbiamo cercato di riassumere un po' la questione siamo in fase di chiusura di un ciclo mensile molto forte poi dovremmo andare a cercare di capire che cosa potrà succedere a dicembre ma questa cosa qui ragazzi la vedremo nei prossimi video perché è veramente molto complicato mi dispiace dirlo sembra sempre un po' così ma il mercato negli ultimi mesi è diventato estremamente complicato avete visto nel 2021 in generale come il mercato è diventato complicato ed è normale che sia così ragazzi perché pasti gratis negli investimenti nel trading non esistono ragazzi e quindi questo probabilmente continuerà ad essere così anche nei prossimi mesi quindi si complica un po' la situazione ma noi schiariremo come sempre con una lente di ingrandimento tutte quelle che sono queste situazioni sta chiudendo il ciclo mensile non vi fate prendere dal panico se non avete una strategia di gestione di questi momenti allora ripensate a questo più che altro ragazzi non seguite la FOMO la FAD non seguite quelle che sono i vostri bias psicologici ricordatevi che per fare un'operazione di trading dovete sempre programmare le uscite anticipatamente o il punto di rottura quindi il break point sotto il quale andrete a chiudere eventualmente le posizioni perché magari vi mandano in panico quindi se non avete un trading plan se non avete queste strutture dovete avere i nervi saldi ok lungo periodo va benissimo però a quel punto ragazzi semplificate i vostri investimenti lo so che il panico in questi momenti è forte alcuni chiamano il black friday perché lo scorso anno c'è stato il break friday anche su bitcoin a proposito ragazzi vi ricordo il break friday trading on perché stiamo facendo questa super offertona e se non ve la ridico poi il marketing mi elimina ok allora ragazzi state arrivando in fiumi io lo sapevo che era così perché 20% di sconto su tutti i miei corsi soprattutto l'acclamatissimo corso basic di mindset che ha cambiato veramente un po' il mindset a tantissimi tantissimi trader che sono ormai con me in academy quindi io lo stravedo per questo corso ed è al 20% in meno ragazzi fino al cyber monday quindi 23 e 59 del 29 novembre neanche un minuto in più se è sgarrato un minuto niente proprio niente va bene va bene detto questo scherzi a parte incrociamo le dita che questo weekend domani sabato e domenica non ci riservi grandi e bruschi movimenti c'è stato anche uno sciacquone comunque sui mercati internazionali quindi non è del tutto scorrelato bitcoin in questo momento la questione legata al SP500 ovviamente amplificando i movimenti in maniera considerevole stiamo andando in close mensile lo ripeto non vi fate prendere dal panico perché dopo la chiusura di un ciclo ne inizia un altro il problema è appunto gestire questi momenti perché quando chiude dove chiude quanto tempo ci vuole ecco lì ragazzi interviene il trader lì interviene la formazione se volete fare questo tipo di operatività dovete andare a studiare un pochetto altrimenti piano d'accumulo altrimenti piano d'accumulo è lungo periodo e chi si è visto si è visto crociamo le dita forza bitcoin ciao ragazzi grazie a tutti